è iniziata così sei minuti che sintetizzano quattro ore di emozioni state per vedere un viaggio nel cuore dello juta questa è moonscape overlock un luogo magico di cui si conosce poco la cui formazione è data da migliaia di anni di trasformazione non pensavo esistesse un posto così per entrare ancor più in contatto con il luogo sono salito su un blocco che cadeva a strapiombo su moonscape non sembra la terra le emozioni che ho provato sono state uniche mi sentivo parte del luogo stesso è stato strano e mozzafiato allo stesso tempo dopo marte che abbiamo esplorato nel video di settimana scorsa ora la luna il tempo e il clima hanno modellato manipolato la terra creando un paesaggio che sembra essere lunare lo juta è sempre più affascinante bellissimo ci credo ma do you want a picture there? it's awesome it's awesome really it's great yeah ever been there? oh yeah ok partiamo ora per Factory Butte il luogo più riconoscibile di quest'area formato dal meteo e dal clima e protetto dalla lava che ha creato alla sua base imponenti dune esplorare questo luogo è un'esperienza mistica i primi a scoprirlo furono i coloni e lo chiamarono così per la sua forma industriale a me invece sembra un castello arroccato a 1900 metri di altezza pilotare con gli occhiali in manuale e sentirsi come sul drone mentre la Jeep correva lungo il tracciato è stato epico il Factory cambia profilo ad ogni angolazione fino a diventare una torre appuntita stranissima dalla Jeep si ha una visione totalmente diversa che dall'alto ci si sente dentro l'azione come alle Bentonite Hills volare non solo mi ha reso libero mi ha anche regalato un punto di vista diverso insieme ad un'adrenalina senza precedente con il sorgere del sole sulle dune si creano nuove ombre le dune sembrano vive ed è come se si animassero con lo scorrere del tempo la terra che si alza la terra che si alza e non sono con il passaggio della Jeep, insieme al mutare del paesaggio, sono straordinari. Rivivere questa avventura insieme a voi, con questa musica ad accompagnare le immagini, è stato un viaggio fantastico che spero di poter fare presto di nuovo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like per supportarlo e se siete interessati alla musica utilizzata in questo video, è su Artlist. Troverete un link speciale in descrizione che vi permetterà di accedere all'ampio catalogo di tracce cinematografiche, con tantissime scelte di pezzi tra unici e rari, per accompagnare le vostre immagini con stile. per creare video che emozionano e che fanno sognare. L'interfaccia del sito è costruita per permettere tramite i filtri di raggiungere le tracce più adatte. Con il tasto download si sceglie il formato ed il gioco è fatto, drag and drop nel programma di post produzione ed il video prende vita. Iscrivendosi oggi si ottengono due mesi gratuiti sul piano annuale e musica infinita. Vi aspetto al prossimo episodio, buona continuazione su YouTube! Grazie a tutti!